Ilenia Carrisi. Parla Maurizio Costanzo, lo capisco solo adesso, il dolore di un uomo A distanza di anni si parla ancora della scomparsa di Ilenia Carrisi, la figlia di Albano e Romina Paller A tornare sull'argomento ci ha pensato Maurizio Costanzo che ha detto la sua nella sua rubrica di Nuovo TV Ormai sono passati più di 20 anni dalla scomparsa di Ilenia Carrisi, la primogenica di Albano e Romina Paller Nonostante ciò, la Power non vuole assolutamente rassegnarsi a questa scomparsa Secondo lei, infatti, sua figlia non è morta e spera ancora di ritrovarla A tornare sull'argomento ci ha pensato Maurizio Costanzo che ha voluto rispondere ad un lettore che gli chiedeva se fosse stato possibile ritrovare Ilenia dopo tanti anni Costanzo, nella sua rubrica di Nuovo TV, ha spiegato, la perdita di un figlio o, peggio ancora, non sapere che fine abbia fatto, deve essere qualcosa di terribile, che ti lascia dentro un vuoto incolmabile Comprendo, quindi, questa donna afflitta dal dolore ancora dopo 26 anni Il giornalista, poi, ha ammesso di non sapere se le notizie che vengono pubblicate ancora oggi sul possibile ritrovamento di Ilenia Carrisi siano vere o talse Un mistero anche per lui, dunque, che ha mostrato vicinanza alla Paller Il dolore di Albano e Romina Paller e la pregua con Loredana Leciso Questa vicenda ha lasciato ancora oggi un vuoto incolmabile in Romina e Albano che molto probabilmente, dopo la scomparsa della primogenita, hanno attraversato una crisi che non sono riusciti a superare Di recente, però, lo stesso Albano ha dichiarato di non avere alcun tipo di rancore Il cantante pugliese, in particolare, ha chiesto alle due donne della sua vita, Romina e Loredana, di mettere da parte i rancori e fare un incontro di pace Albano sembra aver trovato di nuovo la serenità accanto a Loredana Leciso Questi ultimi due anni, per loro, sono stati turbolenti, ma il peggio sembra essere passato Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti per capirne qualcosa in più Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti